Complessivamente diciamo che siamo abbastanza d'accordo su quello che è riportato all'interno della risoluzione che in qualche modo è una risoluzione di compromesso se vogliamo visto che c'erano stati due ordini del giorno presentati e quindi si è dovuto in qualche modo raggiungere un compromesso. L'unica perplessità che persiste è relativa al discorso della rivisitazione dell'AIA per cui io volevo in qualche modo fare questa dichiarazione di voto dicendo che voteremo favorevolmente alla mozione anche perché ripeto contiene questo tipo di elementi come il potenziamento del monitoraggio degli inquinanti e quindi l'analisi epidemiologica e quant'altro quindi su quello siamo perfettamente d'accordo. Non vorremmo però che ci fossero delle brutte sorprese per quanto riguarda la rivisitazione dell'AIA quindi votiamo a favore però con riserva nel senso che verificheremo effettivamente quello che sarà l'iter che porterà alla ridefinizione della nuova AIA perché se per caso si pensa di eliminare il problema semplicemente spostando l'asticella dell'inquinante verso l'alto questo deve essere in qualche modo evitato e bisogna fare in modo che effettivamente oltre a preservare quelli che sono gli interessi dell'azienda, quelli che sono quello che è il diritto al lavoro dei lavoratori che sono impegnati in questo impianto. Dobbiamo come dissi anche ho avuto modo di dire in precedenza e come noi del 5 Stelle diciamo da sempre preservare l'ambiente in primis dal quale discende poi la salvaguardia della salute e poi ancora la salvaguardia dei diritti delle persone e in fondo quello che è il diritto anche degli imprenditori a dar seguito ad investimenti che siano remunerativi perché ovviamente lo sappiamo benissimo gli imprenditori investono se conviene, se non conviene non investono quindi dobbiamo cercare di trovare, questo lo dico con il massimo rispetto nei confronti di tutti, di tutte le categorie coinvolte qua siamo coinvolti tutti, sono tutti i cittadini lucani che sono coinvolti perché questa è una questione che ha visto in qualche modo l'acuirsi della situazione a causa di un'emergenza e a causa dell'intervento della magistratura sulla quale io assolutamente non ho nelle competenze per potermi esprimere e dire che poteva fare in un modo piuttosto che in un altro però ognuno è libero ovviamente di fare le proprie dichiarazioni in merito, io non voglio dispensare colpe a nessuno se non facendo autocritica come politica sulla classe politica perché secondo me quello che dobbiamo guardare citando un po' l'intervento che ha fatto prima Cifarelli che ha parlato di incidenti di percorso vorrei ricordare che gli incidenti di solito capitano molto spesso quando si chiudono gli occhi è facile ragazzi grazie grazie